In questo video due persone cercheranno di impedirmi di morire su Minecraft. Avranno 5 minuti per impedirmi di uccidermi in qualsiasi maniera. Avranno un sacco di item per farlo. Io stavolta avrò due file di cuori e degli scarpini d'oro per protezione. Questo video è stato molto corto ma molto intenso. Buona visione. Ciao! Hai iniziato? Allora, prima cosa qua c'è un Librarian che vende fortuna. Lo uccido. Se voglio uccidermi dovrò trovare un bel po'. Ho sempre gelato da solo. Bravo. Questo è un bene. Come mi uccido? Qua c'è una casa di un villager. No. Ah! No! Dai, non di nuovo. Ah, sì! No, dall'altra parte. Vai! Lara, basta che segui me. Eh, ma non ti vedo. Scusa, mi illumino. Ed è immenso. Sì, però non ti vedo. Non vedo te. Non vedo il tuo amico. Non vedo neanche me stessa. Io ho perso. No, abbiamo detto che... Allora è come giocare con uno. Andrew, ultime parole. Ehm... Ciao. Addio, ho vinto. No! Oddio, quanto è? No! Stavo per colpirmi. C'ho metà vita. No, Vakki, forse ti ho trovato. No, un villager lo sbagliamo. No! Dai! No, non lo so, è simile a un villager. Perché? Per il te? No, non lo so, premi mai. Non lo so. Ah, ok. Ok, Ez. Easy win. No! Ho ancora un cuore e mezzo. What? Tutto dura, sta roba. No, 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 non lo cattivo. Bimbo, non lo cattivo. Bimbo, non lo cattivo. Mi manca un cuore, ho vinto. Ez. Oh, mannaggia. Un minuto e cinquantasette. Ho fatto meglio di quando ero con Andrew. Lara, dove eri? Farete quello pure io. Non lo posso fare io, adesso. Vuoi provare tu? Sì, perché è più semplice quando fori. Ok, va bene, proviamo, proviamo. No, no, prima devo trovarmi, scusatemi, eh, però. Vai! Esatto, prendilo con la canna alla pesca, prendilo con la canna alla pesca e attiralo. Qua ci sono già, c'è già la roba. Mi serve questo. Ah, aspetta, ero in crisi, no. Ma com'è, ringrazio. Ecco perché non ti ho visto colperti. Cosa fai ora? No! What? Semplice, qua. Ok, grazie, ho vinto. Se non fosse per il fatto che... Ma, cioè, è possibile che voi siate sul fatto? Dai. Cioè, troviamo sì lì. Dai. Oh, un riletto, aspetta, lo lo tolto anche a controllo. Ti regalo il mio cibo. Dai, tu hai il doppio della vita, quindi... No, aspetta, no, 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 aspetta, no, no, no. Sì. Eh, sì, è bene. Ma, scusatemi, eh, c'è qualcuno che sottacco o sto seguendo una misegnota? No, cazzo, vabbè. Abbiamo fatto comunque meglio di... Meglio di te e Lara. Va bene. Quindi, ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Commentate per altri video del genere. Eh, ditemi cosa ne pensate di questo video. Prossima volta mettiamo ancora più gente. Ricordatevi di entrare dentro il nostro Discord, perché scegliamo la gente che partecipa da lì. Eh, quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi!